Calcio promozione, la prima vittoria contro il San Benedetto, sabato per la Sante G10, la prima vittoria contro il Piano della Lente, basket e colpi esterni per Roseto e Chieti nel primo turno infrasettimanale della stagione, pallavolo l'esperienza di Cristian Laraia alla futura Teramo, sarà assistente in prima squadra e allenatore dei giovani. Buongiorno e benvenuti alla prima edizione di J-Sport che si apre con il calcio, ancora designazioni di prestigio. Per gli arbitri della sezione AIA di Teramo, Ermanno Feliciani dirigerà Napoli-Como, Daniele Paterna sarà Avar in Udinese-Lecce e Var in Juventus-Cagliari, mentre Antonio Di Martino sarà Avar in Serie B in Catanzaro-Modena. Il calcio di Serie C a Tiglio Tesser non sarà il nuovo allenatore dell'Ascoli. Il tecnico infatti ha rinunciato all'offerta della società marchigiana che a questo punto contro il Pescara domenica sera avrà in panchina ancora l'Edesma, il tecnico ex Primavera. A proposito delle sfide del prossimo turno, sono stati designati gli arbitri. Ascoli-Pescara sarà diretta da Mattia Ubaldi di Roma 1, mentre Pineto Gubbio toccherà a Enrico Cappai di Cagliari. Saranno 500 e siamo alla serie di biglietti a disposizione dei tifosi del Teramo in vista della trasferta del Mario Lancellotta di Isernia, già in vendita nei tradizionali punti vendita di Ciao Tickets. Molisani che arrivano da tre risultati utili e saranno senza il portiere Draghi, espulso domenica scorsa contro la Fermana e squalificato per un turno dal giudice sportivo. L'eccellenza dopo l'esonero di Benedetto Mangiapane in casa Provasto, il presidente Esposito ed il DS Palermo, stanno sondando il terreno per il nuovo allenatore e per il momento il nome più ricorrente è quello di Alessandro Pellicori. Per lui sarebbe un ritorno dopo aver chiuso la stagione scorsa alla guida degli Aragonesi. Match contro il Montorrio che nel frattempo si giocherà al campo dei Salesiani, Ezio Pepe. Avversario dei Biancorossi sarà il Montorrio che a sua volta sta definendo ancora l'organico. Si registra infatti un movimento in entrata ed uno in uscita. Per motivi legati al lavoro è andato via il centrocampista Davide Di Sante, mentre dal notaresco è arrivato il difensore Mattia Mattielli, classe 2005. La promozione dopo aver conquistato la prima vittoria in campionato, la Sante G10 si ricompatta attorno alla figura del mister Luciano Cerasi e continua a preparare le prossime sfide per rincorrere la vetta. Sabato anticipo a Montorrio contro il Piano della Lente, gara fondamentale contro una squadra ancora imbattuta. Il collega Stefano Vecelio ha avvicinato l'attaccante Di Paolo. Avete giocato la partita col San Benedetto, sono arrivati i primi tre punti del vostro campionato, siete partiti un po' in sordina. Questa vittoria vi può rilanciare? Sì, diciamo che siamo partiti male, le prime tre partite, tre sconfitte, il morale era un po' basso perché non si rispettava nessuno, però ci siamo riuniti con la società, col mister, ci siamo detti che comunque non potevamo essere quelli delle prime tre partite, dobbiamo avere una reazione, penso che domenica sia a livello di gioco, di occasioni, di atteggiamento, abbiamo fatto la nostra partita e è arrivata giustamente la vittoria. Sabato giocherete contro il piano della lente che ha affermato il guardiavo mano capolista, una squadra difficile da affrontare. Sì, ma come abbiamo visto sia in Coppa che nelle prime quattro partite, tutte le gare che andremo ad affrontare sono difficili perché quando incontrano noi giocano alla morte, sanno che siamo una squadra forte, però come ho già detto lo dobbiamo dimostrare sul campo. Abbiamo detto che il nostro campionato è iniziato domenica e adesso dobbiamo fare delle vittorie importanti per dare un segnale anche alle pretendenti. Hai scelto di ripartire dalla promozione dopo l'esperienza a Giulianova e hai trovato anche mister Cerasi che già conoscevi, quindi è stato un impatto come è stato? Sì, diciamo che il mister è stato fondamentale per questa scelta, ma comunque sapevo di venire in una piazza calda con un progetto nuovo ambizioso, quindi appena ho ricevuto la chiamata non ci ho pensato due volte, anche se era promozione. L'importante per me era riniziare un nuovo progetto con delle ambizioni importanti. Dal calcio al basket sorridono le abruzzesi nel primo turno infrasettimanale della stagione. Con l'aiuto della grafica vediamo risultati e classifica per quanto riguarda la B nazionale, girone B, seconda giornata. Juve-Caserta-Salerno 70-83, Luiz-Roma-Sansevero 86-54, Gema-Montecatini-Chiusi 74-60, Iesi-Chieti 64-70, Latina-Rieti 84-91, Sant'Antimo-Ruvo di Puglia 80-85, Fabriano-Roseto 75-77, Erons-Montecatini-Virtus-Roma 79-74, Piombino-Livorno 62-70, si giocherà questa sera palla a due alle 20.30, Ravenna contro Virtus-Cassino. La classifica, vediamo quali sono le squadre che restano a punteggio pieno con quattro punti, Roseto-Salerno-Gema-Montecatini-Chieti-Rieti-Livorno-Ruvo di Puglia e Erons-Montecatini. A quota 2 Juve-Caserta-Luis-Roma e Chiusi, restano ferme al palo a quota 0 Virtus-Cassino-Ravenna-Iesi-Fabriano-Sant'Antimo-Virtus-Roma-Latina-Piombino-Sansevero. Colpo esterno di Roseto, come abbiamo visto a Cerreto-Desi, contro Fabriano decisivi i secondi finali. Il servizio di Fabio Talamonti. Leo Filchem-Roseto che fa 2 su 2 in campionato e spugna il Palacemiba di Cerreto-Desi contro i padroni casa di Ristopro Fabriano con un canestrissimo nel finale di Lucas Austi-Calnis con Marco Verrini appunto per parlare della gara di ieri sera perché proietta Roseto ovviamente al primo posto in classifica. Sì, ad essere sincero, una gara che vedevo da tempo dietro l'angolo. Non è che me la sono gufata, fra virgolette, però sai, quando ricevi troppi elogi e hai fatto certi tipi di prestazioni importanti ci sta che nella testa del gruppo, del singolo scattano una sorta di quanto sono forte, quanto sono bello. Quindi paradossalmente vincere una partita così io credo che ci possa fare bene e far riscendere un po' tutti con i piedi a terra e fortunatamente non abbiamo lasciato i due punti per strada. Io credo che probabilmente se avessimo avuto un roster diverso, meno profondo, meno competitivo di quello che abbiamo noi avremmo perso sicuramente a Fabriano. Poi hai i pro e i contro di quando hai un roster molto profondo, lungo. Sicuramente, come ho detto, ho avuto modo di dire in estate. I pro sono che con una partita giocata male riesci sempre a prendere dal cilindro qualche giocatore che ti si inventa la protagonista in quella giornata e riesci a portarlo a casa pur giocando male come è successo ieri. I contro sono che gestire dieci giocatori purtroppo non è facile per tutti, per nessuno. Cioè, nel senso, anche il migliore allenatore del mondo io credo che abbia difficoltà a gestire dieci giocatori. Ma noi sappiamo che questo potrebbe essere un nostro problema ma conoscendo i ragazzi come si stanno adattando a questo tipo di situazione per noi sarà un vantaggio e soprattutto lo sarà nella fase finale. E come abbiamo visto espluà a Iesi anche di Chieti 64-70 con primo parziale a favore dei marchigiani 12-7, più 3 per i teatini a riposo 33-36, sorpasso dei padroni di casa a fine terzo periodo 50-48 prima di un break finale a favore della squadra di Coac Lardo che è valso la vittoria. 5 giocatori in doppia cifra 15 punti di Becchi 11 a testa per Sinagra, Vettori e Serafini 10 per Azic dalla basket alla palla a volo un passato da giocatore di grande rilevanza con le maglie tra le altre di Modena e Brescia il terramano Cristian Laraia torna nella sua città ed entra a far parte dell'organigramma della Futura Teramo sarà uno degli assistenti di Paolo Collavini per la prima squadra e guiderà la formazione Under 13 lo abbiamo ascoltato. Chi ama il mondo della pallavolo non può non conoscere Cristian Laraia che è tornato alla Futura Teramo con un ruolo di assistente ma anche e soprattutto di tecnico delle giovanili? Sì, l'incontro c'è stato verso il finale di stagione dello scorso anno e devo dire che ho conosciuto un ambiente straordinario fatto di persone serie e ambiziose con progettualità in testa e questo credo che sia fondamentale. Il mio ruolo per quest'anno e mi auguro anche in futuro sarà quello di trasmettere esperienza alle più piccole con un occhio al futuro naturalmente e fare da assistente tecnico nella prima squadra la B1 dove già ci sono Collavini e Motola. Di esperienza ci sono tante cose da raccontare perché è stata una buonissima carriera al campo maschile. Sì, va bene fa parte ormai anche della pre-storia ho avuto la fortuna di sfiorare l'ambiente della Serie A di uno sport che io adesso considero diverso nel senso che le regole sono cambiate le preparazioni fisiche atletiche alimentari sono cambiate comunque sì sono ambienti fantastici che sicuramente lasciano tracce di esperienze positive e negative per carità che spero di avere la fortuna di riuscire a trasmettere piano piano ai più giovani. Futura squadra giovane che avrà obiettivi quello di mantenere principalmente la categoria in un girone molto complicato comunque. Sì, sulla carta il girone è complicato però la gioventù secondo me è portatrice sana anche di sregolatezza di motivazione quindi credo che magari saranno gli altri ad avere più incognite quando incontranno la nostra squadra il percorso fino adesso al di là dei risultati dell'Amichevoli è stato un discorso di crescita quindi questo è importante e poi poi vedremo insomma essere giovani comporta anche in esperienza però dall'altra parte tanta voglia di crescere e di migliorarsi. Insegnamento di la RAIA verso i più giovani che andrei a allenare? Allora io credo che senza una mentalità sportiva si possa fare poca squadra quindi il mio anche da insegnante di scienze motorie il mio obiettivo sarà quello di inculcare un certo tipo di mentalità si va in palestra per divertirsi per socializzare per crescere però è anche un impegno quindi quando questo impegno si prende bisogna portarlo a termine ecco quindi sicuramente questo poi per adesso le fasce di tagalleno sono piccole quindi si parla di gioco non si parla di sport ecco però inculcare quella stella di impegno di sacrificio che già si può cominciare a intravedere anche a quell'età ecco e con la pallavolo si chiude questa prima edizione di J-Sport grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata grazie a tutti